Era essenziale, tu ci chiedevi, lavorevi, ci chiedevi, ci chiedevi, ci chiedevi, e avrete un'energia, lascia tranquilla, conoscete la lascia tranquilla, e poi che avrete un po' di sonno a Dio, finalmente vi conto a Dio, tu lo vedi più di qualsiasi anno che era il mondo per essi. Maggio non è più esplosente, ora più costi, però mi piacciono di me ad onorare tutta la bella ossa che mi accoglie in Salle e tutti gli anni, e poi la tua seconda, la tua seconda, la tua seconda a casa. Sì, è dato, mi piaccionoci ancora l'esperienza di una varia, perché siamo tutti qui a casa, in un salto, c'è qualcosa di tutto insieme. E tu, però, era questo gigante, però che ho fatto la persona di Fai, o sbaglio, è il tuo panino. Andiamo un attimo in panco, perché quando c'è anche il tetore, 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 il tetore. Qual è il tuo souvenir di questo viaggio nel Torre di Gia, che è ricidibile già dall'anno l'anno scorso? Il Torre è sempre più importante la meteo, ha avancato poco tempo, questo è stato un po' gaucho per voi, c'è stato un po' di scelta per la meteo, ma il tuo souvenir è che ci sarà di far servire un tiramisu e un suo arrivere a l'Italia, a l'Italia, a l'Italia. A quel anno? Non, 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 non. Questo viaggio è molto bello, io sono rispondi, non c'è un livello di dire, lui è più americano, perché è un po' di più, io ti ringrazio, è il tuo fatto, come mezzo a qualche minuto, ti ringrazio il tuo volante, c'è le più ciò che fa la differenza. Io ti ho la questione, come si passa il tuo lavoro? Io sono stato un po' a il pensiero, ma non passiamo, 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 ma non passiamo un po' a il pensiero. Ma non passiamo, ma non passiamo... ma non passiamo, ma non passiamo? la neige da la montagna di descente, 200 m di livelli. Bisogna la base di un'altra, c'est'à un checkpoint. Più neige di côté di Gran Semana o di côté di Torbayo? Io diria che è un po' equivalente. C'è un po' che si fa, come ho contato prima. La sette un po' ti, bravo. E' chiesa un po' che ci s'attosso, ci sono arrivati. Non vanno più a spettare fuori, la pausa proprio su Svizzera, un amico. Michele Nelson! Divantata la mia conoscura, eh? Nicolai, mi viene invitata a voi, voi lo vedete stampata. Stiamo che il tempo tenga, Vise Bozzani, Tombo, Riepo Santelli, un grande applauso, per i camponi due giganti del Tor. Bozzani! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!